Kate Middleton non è estranea far girare la testa al pubblico, ma quando lascia il principe George e la principessa Charlotte ai cancelli della scuola, un altro genitore sta guadagnando più attenzione. Nonostante siano membri anziani della famiglia reale, il duca e la duchessa di Cambridge fanno regolarmente le corse scolastiche per i loro figli nel tentativo di dare loro un'educazione normale. La coppia può essere vista spesso abbandonare e raccogliere i loro due figli più grandi dalla loro scuola Thomas Battersea nel sud di Londra. Tuttavia, uno dei genitori ai cancelli della scuola ha detto al Daily Mail, un altro genitore sta girando molte più teste. Hanno detto. Nessuno dà davvero a Kate una seconda occhiata quando fa l'abbandono scolastico. Abbiamo anche una modella di Victoria's Secret che fa la scuola, e i papà sono molto più interessati a lei. Kate Middleton e il principe William fanno del loro meglio per proteggere i loro figli dai riflettori dei media, rilasciando ogni tanto una rara immagine dei bambini per la gioia dei fan di Royal. Una fonte reale ha detto a OK Magazine. Lei, Kate, proviene da una famiglia solidale. Quindi è molto appassionata di reti familiari e reti di amici e organizzazioni. Come genitori sono anche molto bravi a rimboccarsi le maniche e dare una mano con gli eventi scolastici, giornate sportive, raccolte fondi e cose del genere. Hanno continuato. Cercano di essere proprio come i genitori normali con normali difficoltà genitoriali. Nel tentativo di non attirare l'attenzione sulla loro speciale eredità, i bambini a scuola hanno nomi diversi. La principessa Charlotte è conosciuta solo come Charlotte Cambridge mentre il principe George si chiama allo stesso modo George Cambridge. Entrambi i bambini frequentano la scuola di Thomas Battersea a Londra. Il principe Lewis frequenta la Wilcox Nursery School di Londra, frequentata anche dalla principessa Charlotte nel 2018. Anche se alcuni potrebbero aspettarsi che i bambini si comportino male, i reali si assicurano che ai loro figli vengano insegnate le buone maniere.